Buonasera! Benvenuti! Eccoci! Benvenuti! Millennium Fashion TV riesce sempre a dare grande entusiasmo Come stai Matteo? Carico, mi sento carico Hai messo anche l'orecchino? Eh? No, ce l'avevo già Addirittura? Che è successo? Non abbiamo cambiato niente No, siamo sempre black and white In questo momento, in questo periodo Ho io una situazione giusta giusta per iniziare Si traspone in un altro missile Con circuni di mille valcole Tra le stelle, sprinta e va Mangia liquidi, cibi e medica Insalate di matematica E a giocare su Matteo e va Lui respira nell'aria cosmica È un miracolo di elettronica Ha un cuore umano Vai Ma 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 E' Max, chi è?